Amici sportivi La più cordiale buonasera da Fabrizio Agostini e Gianfranco Marceddu Dal Palameucci di Aprilia PR 2000 Aprilia Don Bosco Genzano Settima giornata del campionato di Serie D Di calcio a 5 Sfida al vertice tra le due squadre La prima della classe in maglia bianco-viola contro la PR Nella consueta casacca grigia con numeri arancio Partiti Il primo pallone sarà gestito proprio dai padroni di casa Ora ci provano Paterniani Sfiora l'incrocio Si ferma Ancora dei giudici Scarica il destro La parata Di Pescietelli E allora Cos Per Mandrella Dentro per Palozzi Si gira Palozzi Va via Palozzi Sinistro Margari Infanti Il suo tiro La respinta sulla linea Poi ancora Infanti Respinge Proprio Margari Poi ancora Valle Cos In mezzo Palozzi Ancora Margari Grande protagonista Valle Ancora PR però Con dei giudici Numero di dei giudici Ancora dei giudici E palla in rete E vantaggio Pr Pallone dentro Prova Mandrella A farsi largo Va via Mandrella E palla in rete Immediato pareggio Della Don Bosco Che numero di Mandrella Valle Dentro per Palozzi Si gira Deviazione Palla sul palo Palla dentro Poi Incredibile occasione Catalano Scarica Fulco Poi Combinazione Palla che viene rubata Da dei giudici Ancora lui Gianluca dei giudici 2 a 1 PR nuovamente Avanti Proposizione offensiva La squadra di Genzano Poi ancora un break Dei giudici Dei giudici Per il sinistro Fuori di Fulco Ancora Possesso Devo Mandrella Tira da lontanissimo Masoni Fai la spinta Di Paterniani Break di Jacobacci Jacobacci Sinistro E palla in rete Tris Della PR Come un fulmine Jacobacci Chiude in qualche modo Ma ancora dei giudici Dei giudici Scarica a destra Palla in rete Poker Apriliano Sulla Don Bosco Siamo già dall'altra parte Break però Da parte di Paterniani Dei giudici Dei giudici va ancora via E paratona di Pescietelli Ma ancora Impressione La PR Poi arriva La rete Da parte di Infanti Un po' sorpreso Pescietelli 5 a 1 Poi Jacobacci Va via Palozzi Poi ancora Jacobacci Con caparbietà Va via Jacobacci Destro Palla sul palo Poi però Va via Palozzi Faccia destra Sinistra Respinta Poi ancora Palozzi Palla dentro Monnati Non può sbagliare Stavolta Jacobacci anticipato E allora Contropiede Della Don Bosco Pallone ancora Per Cos Tiene il pallone in campo Mette dentro Palla in rete Arriva Il sinistro Il sinistro vincente Di Palozzi Gara Completamente Riaperta Monnati Colpo di tacco Per Mandrella Mandrella Mette in mezzo Cos Che non riesce A deviare in porta Argentini Il break C'è Mandrella Tutto solo Poi Palozzi Poi la rete 5 a 4 Torna in scia La Don Bosco Fischietto in bocca Per l'arbitro Arriva il triplice fischio La PR 2000 Aprilia Batte la capolista Don Bosco Genzano 5 a 4 Dopo una rocambolesca partita Che l'ha vista avanti Anche 5 a 1 Ha resistito Al rimonta Della formazione Di Gabbarini Da Fabrizio Agostini E Gianfranco Marceddu Un cordiale saluto E appuntamento Alla prossima sfida